Come uno dei suoi giocatori rossoneri, Silvio Berlusconi ha servito l'assist, forse l'ultimo, a Raffaele Fitto affinché si ricomponga almeno provvisoriamente la frattura tra l'euro parlamentare e Forza Italia. Il leader del partito azzurro offrirebbe ai fittiani cinque o sei posti nella lista di Forza Italia e un paio in quella civica voluta dall'eurodeputato magliese. I ambasciatori della pace sarebbero i berlusconiani Francesco Paolo Sisto, Altero Matteoli e Denis Berdini, i quali dovrebbero contattare Raffaele Fitto, ovviamente senza escludere il coordinatore regionale in Puglia, Luigi Vitali, il quale appare isolato, visto che Angelino Alfano, leader del nuovo centrodestra, avrebbe indicato la strada che porta a Fitto, confermando quindi la scelta di Schettulli, quale candidato alla presidenza della regione Puglia e ormai lontano da Forza Italia. Grazie a tutti.